benvenuti buonasera benvenuti la quarta puntata del ciclo di webinar sulla benchi laser tv vi 6.000 vi 6.050 permettetemi di dare il benvenuto ai nostri ospiti emilio frattaroli e luciano dipenta direttamente collegato da teramo ciao emilio mi senti ciao senti si molto bene forte chiaro aspettiamo che anche luciano si colleghi luciano ci senti se vi sento un attimo la videocamera ecco mi sento un secondo solo intanto da alcune istruzioni per chi si è collegato per la prima volta come sapete le nostre puntate sono tutte registrate quindi non c'è bisogno che prendiate appunti perché vi verranno inviate poi alla fine della puntata la registrazione completa della del webinar il vostro microfono è completamente disattivato ma potete comunque interagire con noi anzi fate lo tra question panel trovate un'icona a forma a forma di nuvola vi si aprirà una chat e tramite quella potrete inviare le vostre domande che saranno affrontate nella sessione di question and answer alla fine del webinar poi alla fine del webinar vi ricordo di non chiudere la vostra schermata perché verrete indirizzati al nostro sondaggio vi chiediamo un minuto del vostro tempo per darci i vostri feedback e permettere a noi di migliorare la qualità del webinar che che vi stiamo offrendo a questo punto fatemi vedere luciano si luciano ti sei collegato luciano luciano ancora non c'è emilio io direi di iniziare come abbiamo fatto per le altre puntate dalle domande e dalle dei messaggi importanti che ci siamo lasciati indietro dalla volta in corso d'accordo assolutamente sì anche perché oggi le robe da far vedere sono veramente tantissime sono veramente tante quindi non vorrei perdere un altro tempo allora iniziamo con ripilogare la nostra offerta della laser tv schermo lr 100 pollici fisso a parete con un prezzo di destino di 1500 euro e i v6000 v6 1050 hanno un prezzo di destino di 3.999 euro se comprate insieme il prezzo dello schermo lr scende a 1000 euro ma fino al 31 12 2020 vi ricordo che il telo ve lo regala ben chiù in omaggio fino al 31 12 quindi vi consigliamo di recarvi presso i nostri partner per usufruire anche di questa promozione oltre a questo ben chi è deciso di fare un omaggio un omaggio per per natale per la crisma con la crisma scampi acquistando un ben chi laser tv di 6.000 v6 1050 riceverete in in omaggio una lampada tavolo coral orange di keys design visitato il nostro sito ben chi ti ho scannerizzato il qr code per conoscere tutto il regolamento e la procedura per poter accedere a questa promozione questa campagna è valida ovviamente al primo di dicembre 2020 anche ovviamente per gli acquisti antecedenti a quella data fino a domenica domenica e 31 gennaio 2021 cosa importante poi abbiamo da dirvi un'altra cosa vero emilio in quanto i nostri webinar non finiscono qua abbiamo un'ulteriore sessione il sabato 12 dicembre in cui presenteremo l'android tv il ben chiù ha deciso di lanciare insieme con con nell'ultimo trimestre i primi proiettori smart certificati google android sul mercato di k850 i w 2007 i e th 685 i andremo da sound image saremo da sound image a padova e presenteremo l'android tv di google di ben chiù direttamente da loro con sempre con la partecipazione di emilio a questo punto partiamo dalle domande che ci eravamo lasciati indietro dalla terza puntata in realtà era solamente una vi ricordo che le puntate possono essere viste tramite i nostri link di youtube quindi potete scala prima puntata trovate il link potete vedere il link sulla vostra schermata questo è il link per la seconda schermata per la seconda puntata mentre la terza focalizzata sul di la presentazione di 6.000 di 6.050 è già online dovreste aver ricevuto per chi ha partecipato a queste tre puntate anche il i vari link per rivederle dalla terza puntata è rimasta una sola domanda che era legata ai sintonizzatori tv in particolare sintonizzatori tv osat per questi proiettori ost dei quali ne sono adottati hanno una qualità paragonabile a quelli utilizzati nei tv tradizionali o sarebbe comunque consigliabile un sintonizzatore esterno emilio non ti sento la mia esperienza diciamo la mia esperienza di test i prodotti di proiettori laser ust diciamo e di prodotti dotati di sintonizzatore a bordo si limita a tre macchine ovvero un paio di macchine di isense e una macchina di di samsung non ho avuto modo di testare le altre allora per quanto riguarda l'isense diciamo la macchina di fascia più alta che abbiamo anche recensito trovate la recensione su web magazine è dotata di un sintonizzatore di fascia alta addirittura certificato tv sat con anche con ingresso cam e e quindi è assolutamente in linea con un sintonizzatore di che si trova su un tv emilio c'è il microfono spento abbiamo perso un ultimo nell'ultimo passaggio pronto 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 adesso allora si sentiamo il diciamo il sintonizzatore a bordo del proiettore isense e diciamo in linea con con i sintonizzatori che sono a bordo del tv di isense di fascia alta diciamo che è un sintonizzatore abbastanza versatile e come qualità in linea con i sintonizzatori diciamo stand alone magari sintonizzatori stand alone di fascia più alta parla di quelli ovviamente in alta definizione anche con cioè tv sat diciamo che hanno magari qualche funzione in più per quanto riguarda la qualità in questo momento non sono in grado di dire quale dei vari sintonizzatori è il migliore perché non abbiamo approfondito questo argomento per quanto riguarda invece il samsung il prodotto che ho visto da garman qualche settimana fa e diciamo poco più che un prototipo nel senso che il sintonizzatore ancora non funzionava quindi non vi so dire però non ha né la cam né altre features quindi diciamo che in quel caso invece il sintonizzatore stand alone è decisamente consigliato e comunque lo consiglio sempre perché insomma è decisamente più versatile permette di fare molte più cose infatti noi sul v6000 v6050 abbiamo la nostra azienda deciso proprio di non inserirlo anche perché noi non siamo produttori di tv e televisori quindi non abbiamo deciso di concentrarci su quello che è la qualità di visione del prodotto anche perché la nostra utenza generalmente ha un dispositivo esterno infatti l'altra domanda che capita a fagiolo era riguardo alla presenza dei sintonizzatori tv sat negli ottica ultracorta sarebbe interessante proporre un sondaggio per capire quanto sia importante questa funzionalità direi grazie per la domanda io direi appunto questo punto di proporre direttamente appunto il sondaggio perché è esattamente proprio su questa domanda proprio su questa domanda quindi attendiamo che davide ecco qua già il sondaggio chiediamo ai nostri spettatori quali sono le sorgenti video che utilizzereste più spesso sul videoproiettore da un cinema o televisore blu ray 4k decoder sky servizi di streaming quali disney plus netflix o prime video digitale terrestre sintonizzatore o console gaming questo era un sondaggio che avevamo proposto se ti ricordi anche nella puntata relativa al v500 e i risultati erano stati abbastanza abbastanza quelli che aspettavamo vediamo infatti vorrei capire adesso se i risultati cambieranno rispetto a sei mesi fa anche magari con l'arrivo di disney plus e di altre piattaforme sì sono molto curioso anch'io attendiamo ancora qualche minuto che come sapete c'è un ritardo di un circa 10 20 secondi tra l'invio del sondaggio e la possibilità per i nostri utenti di rispondere quindi attendiamo ancora qualche secondo direi che ci siamo possiamo ok perfetto ha votato circa 80 per cento partecipanti davide direi di mostrare i risultati un attimo solo che emilio se vuoi commentarli beh mi rallegro che nella nostra audience c'è ancora uno zoccolo di riducibili del 2 ray 4k evviva allora un attimo solo che ero ero certo che i servizi di streaming avrebbero superato i lettori stand alone d'altra parte diciamo che alcuni lettori stand alone come quelli panasonic o anche sony hanno comunque a bordo i servizi di streaming si infatti possiamo chiudere il sondaggio infatti direi di fare un raffronto riprendo un attimo la parola adesso dovreste poter vedere ancora il mio schermo giusto sì ok infatti andiamo a vedere un attimo qual era stato qual è la comparazione tra il novembre del 2020 quindi il sondaggio a cui abbiamo risposto i nostri partecipanti ora e i risultati che invece avevamo avuto a giugno 2020 a giugno 2020 avevamo avuto molte più aveva sarà vinto nettamente il 2 ray 4k se possiamo vedere che invece il decoder sky ha aumentato dal 20 un 33 per cento i servizi di streaming sono rimasti praticamente al 64 65 69 per cento sono rimasti praticamente invariati aumenta leggermente il digitale terrestre e decresce un attimino al console gaming però più o meno a parte il blu ray 4k che è sceso rispetto la seconda puntata più o meno i risultati sono rimasti abbastanza simili a questo punto io direi a di presentare il nostro ospite luciano ciao luciano se non è il microfono attivo ok perfetto direi a questo punto di far vedere il video di di ai file di prinzio così possiamo commentarlo insieme un attimo che stop la condivisione ricordo di riattivare i vostri microfoni perché si disattiveranno non appena avvio il video allora qui diciamo che sono andato a trovare recentemente ai file di prinzio ci senti sentiamo anche luciano luciano le attiva il microfono pronto luciano luciano vabbè diciamo che commento io sì adesso lo sento ci sei luciano vai emilio allora vabbè il punto venire dai file di prinzio è gigantesco si sviluppa su due piani ed è insomma sul primo piano c'è oltre l'ingresso c'è un foyer anche molto grande dove sono già molti impianti in funzione e dove c'è la maggior parte degli impianti dedicata all'ingresso all'audio video e poi ci sono diciamo una sala dedicata all'usato dove comunque ci sono impianti in funzione e poi sempre nel in un'altra parte del foyer c'è una teoria di diffusori amplificatori e sorgenti è possibile incrociare tra loro fino a poco tempo fa c'era una sala video dedicata che non mi è mai piaciuta questo non l'ho mai nascosto né a mino di prinzio nel luciano tutti quanti perché era un po stretta e lunghissima io sovrannominavo il grande corridoio di ai tre di prinzio dove insomma c'era uno schermo da tre metri di base a quella che l'anno scorso la la presentazione del v5007 esatto dove praticamente lo schermo la prima fila era a distanza siderale dallo schermo c'era una sala che era a misura di un dell'alta definizione neanche e invece adesso hanno fatto stanno facendo dei lavori possiamo vedere hanno fatto una sala più piccola come cubatura ma molto più larga che quindi diciamo finalmente a misura 4k se non e di questo sono molto soddisfatto penso luciano che i lavori finiranno a brevissimo e quindi non vedo l'ora di venire e di fare un po di a barelli dentro dopodiché la parte diciamo più interessante di a fede prinzio è al piano inferiore inferiore dove ci sono credo una circa cinque sale però alcune di queste sale prevedono l'installazione fino a cinque impianti contemporaneamente che sono talmente grandi come quella più grande ad elle li troviamo impianti di fascia sempre più alta man mano che si procede con diffusori d'alta efficienza valvole giradischi dac però dove si trova sempre un prodotto anche piuttosto eterogene come prezzo quindi troviamo tra le immagini vediamo per dire anche l'amplificazione ma anche diffusoria ma e poi troviamo anche mckintosh insomma anche roba di fascia ancora più elevata diffusori ho visto karma ho visto bien debbi sopra sono sfaber yg veramente non so quanti quanti marchi quanti quanti prodotti sono dalle che di inizio non penso di aver mai visto un punto vendita nel mondo con così con così tanta roba e tutta funzionante poi emilio da quando c'è diventati anche voi zona rossa in abruzzo immagino che il negozio in questo momento sia chiuso al pubblico giusto o poi può ancora fare ok perfetto perché sono rientrano nei codici che possono rimanere aperti assolutamente sì ti vendi da direttore di consumo di video sono sono aperti nei limiti ovviamente di sicurezza non possono entrare 40 persone però sono su appuntamento si può entrare assolutamente negozio aperto ottima ma io non ti sento che non si è allora aspetta ma calma 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 ma secondo me luciano non ha attivato il mirone perché ha paura che io adesso lo metto in difficoltà sulla califrazione eccola no si è riattivato non ha riattivato niente non riusciamo a sentirlo va bene dai beh comunque possiamo dire che anche come vedete anche dietro a luciano ci ha montato il v6 1050 con lo schermo lr quindi vi è la possibilità tramite il nostro sondaggio a webinar di darci l'autorizzazione per passare a luciano i contatti luciano ti sentiamo forse prova a parlare no 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 fa niente comunque c'è la possibilità di passare a luciano appunto i contatti e verrete ricontattati per una visita eh per una dimostrazione non funziona non mi funziona io ti sentiamo ma secondo me il tuo collegamento forse un po' lento e arriva con un po' di ritardo è un problema di connessione luciano ti consiglio magari per la seconda parte dopo il mio intervento magari puoi andare nella postazione sopra dove abbiamo provato ieri lì la connessione era perfetta esatto lì la connessione era buona va bene allora a questo punto io lascerei la parola di Emilio direi che allora aspetta un attimo Emilio che ti lascio dovresti avere i poteri organizzatore mi sentite adesso sì adesso ti sentiamo mi sentite sì è qui purtroppo siamo come mi sentite sì ecco siamo in una situazione diciamo così un po ecco come di emergenza nel senso che abbiamo allestito questa sala che è ancora in fase di ristrutturazione e quindi l'abbiamo affrontata proprio per questo evento e con qualche piccolo problema ancora di connessione o altro adesso mi sono avvicinato un pochino qui al ripetitore quindi dovrebbe andare meglio comunque Emilio ha presentato benissimo grazie ci hai presentato benissimo la sala come hai detto tu era ora di ristrutturarla perché insomma aveva un bel po' di anni e altre esigenze quindi adesso stiamo facendo un bel lavoro la stiamo sistemando tu hai avuto il modo di vederla in fase di lavori a breve volevamo volevamo riuscirci proprio per questo evento ma non ci siamo riusciti mi dispiace però a presto a presto a breve ci riusciremo e ve la faremo vedere in pompa magna come si può dire sentimi confermi che il punto vendita è aperto sì sì punto vendita è aperto come dici tu come hai detto tu con tutte le regole rispettando tutte le regole del caso anche se siamo in zona rossa noi possiamo essere aperti e quindi funzioniamo per lo più ovviamente con con l'online poi essendo zona rossa possono venire sono le persone della del comune per cui diciamo che il rossa è online al momento sì ok molto bene io a questo punto lasciare la parola di emilio che inizia con la parte centrale del webinar direi che disattiva la vostra delle nostre telecamere e microfoni emilio la parola a te allora vediamo un po di mostrare lo schermo mi confermi che guarda che si vede il schermo che si vede ok perfetto allora veramente dovrò correre tantissimo perché diciamo concentrare in in mezz'ora quello che dobbiamo far vedere in questa puntata è veramente un'impresa quasi impossibile quindi probabilmente mi allungherò un pochettino di più un piccolo recap su quello che abbiamo fatto in questo mese ovvero quattro puntate dedicate alla videoproiezione a tiro ultracorto dove abbiamo prima parlato di schermi lr nella prima puntata poi abbiamo focalizzato l'attenzione sulle tecnologie sui proiettori a tiro ultracorto la settimana scorsa abbiamo visto invece abbiamo approfondito l'argomento su il sul proiettore v6000 e v6000 50 vi ricordo l'unica differenza è estetica e invece questa sera siamo finalmente alla calibrazione del v6000 e del v6000 50 da questo punto di vista sono identici calibrazione che in realtà diciamo che divido più che altro in quattro momenti diversi ovvero adesso vi farò vedere molto brevemente qualche cenno sull'installazione e sulla correzione di geometria e keystone e poi vedremo la configurazione del mio immagine la selezione cioè qual è il impostazione per divina più interessante poi vedremo appunto come configurare e tarare farò vedere anche qualche strumento di misura sorgenti da utilizzare qualche consiglio ovviamente questo non è il momento per fare un webinar sulla calibrazione che avrebbe bisogno di ben altri tempi e puntate per essere completo quindi diciamo quello che vedremo nei prossimi minuti e proprio sono indicazioni e consigli proprio sulla calibrazione del v6000 vedremo adesso come in che modo allora vi faccio vedere subito vediamo un attimo il nostro set qui siamo qui siamo insomma nella nostra sala principale quello che vedete è il insomma il set principale dove abbiamo delle sorgenti degli amplificatori questo per esempio è un lettore panasonic 9000 dice un oppo però diciamo utilizzeremo oggi il digifast che è un htpc prodotto da micro fast che a noi molto caro perché ci permette di fare tante cose interessanti e perché essendo un htpc abbiamo collegato dentro abbiamo utilizzeremo software di calibrazione che hcfr in realtà qui ce ne sono anche altri è un colorimetro quasi entry level e poi invece se franco magari vuoi inquadrare il la parte anteriore qui abbiamo il proiettore il v6000 in diciamo che noi in realtà saremmo dovuti andare dai fatti prinzio perché l'idea era di fare un roccio in cui in ogni puntata saremmo stati all'interno del punto quindi selezionato per fare il webinar in diretta diciamo un po arrangiati siamo arrangiati il lo schermo che vedete è un vivid storm ed è dimmi franco posso proseguire ah è vero rimetti rimedio disattiva la condivisione mondiale scusa mi ragione riguardo un attimo magari facciamo vedere magari lo zoom un pochino dicevo questo è il set con le sorgenti panasonic 9000 però noi utilizziamo questo htpc ripeto il digifast che comunque con una scheda grafica md poi c'è anche un sintomplificatore denon però in questo caso il segnale passa attraverso il sintomplificatore invece torniamo un attimo davanti franz e vediamo il v6 mila il proiettore e poi diciamo abbiamo cercato di installare un po più in alto diciamo l'installazione che piace di più a me è quella con lo schermo direttamente a pavimento questo un vivid storm che ha lo stesso tipo di superficie che ha anche lo schermo ben chiù a cornice fissa questo invece è uno schermo elettrico motorizzato con salita dal basso molto carino però la superficie è identica come caratteristiche a quella del del prodotto distributato ben chiù sono 100 pollici dicevo non l'abbiamo messo a terra per per farvi vedere alcune cose che insomma adesso vi faremo vedere molto rapidamente invece per quanto riguarda la strumentazione qui abbiamo un xrite i1 display pro questo è un modello oim un colorimetro dal costo di circa 250 euro ok bene potremmo anche consigliare tantissimi il questo per esempio che vi faccio vedere il colorimetro che utilizziamo principalmente in avi magazine ne abbiamo qualcuno di questi è un hubble o tc 1000 diciamo un po più veloce un po più sensibile sulle basse luci però ripeto il live one display pro è comunque un colorimetro che ha un rapporto qualità prezzo straordinario veramente straordinario e per diciamo per quello che deve fare è sicuramente l'acquisto che consiglio ripeto tra le 230 250 euro ed è compatibile con tantissimi software di calibrazione per chi non ha esperienza consiglio ovviamente di iniziare da un software freeware come hcfr oppure con tanti altri quelli che utilizzano argil oppure software commerciali come calman chroma pure o color space di cui magari avremo modo di parlare in un altro momento per quanto riguarda il posizionamento dello strumento in questo caso il live one display pro ha un angolo di campo di circa cinque gradi l'ho messo a circa due metri ci andrebbe messo a circa due metri dal dallo schermo in posizione centrale e facciamo rispettando la retta che passa tra i nostri occhi e lo strumento di misura dovremmo simulare l'angolo di visione da cui siamo seduti quindi non necessariamente perfettamente perpendicola alla superficie dello schermo il puntamento può essere fatto ad occhio in alcuni casi gli strumenti di misura hanno anche un puntatore laser guardiamo invece un attimo guardiamo invece un attimo la il posizionamento del proiettore è una cosa che in tanti ci hanno chiesto io sento entro un attimo nel menu del ben più e attivo il segnale test allora segnali test che insomma di default e vi faccio capire che il posizionamento benché sia semplice non è affatto banale perché con il rapporto di tiro così limitato spostamenti di pochi millimetri si traducono in distorsioni geometriche di vari centimetri e vi faccio vedere molto semplicemente anche solo ruotando il proiettore nel suo asse vedete di pochissimo guardate quante sono le distorsioni geometriche sono insomma abbastanza importanti molti proiettori hanno compreso il ben più in questo caso hanno la possibilità di correggere geometricamente digitalmente l'immagine specialmente negli angoli il famoso piston angolare alcuni proiettori ce l'hanno anche molto sofisticata questa questo tipo di correzione però attenzione perché se correggete il piston dal punto di vista elettronico l'immagine viene ricampionata c'è uno scaling e quindi c'è perdita di risoluzione anche creazione di artefatti di aliesi il consiglio è sempre quello di cercare di correggere l'immagine manualmente ovvero col posizionamento da questo punto di vista sono importantissimi piedini perché i quattro piedini specialmente come come nel caso di ben chiù che sono facilmente accessibili sono molto grandi e hanno un escursione di quasi un centimetro permettono di modificare vari piani di libertà e quindi consentono di correggere in maniera agevole la tutta la distorsione piston sia orizzontale verticale che angolare a questo punto torno nella mia postazione ok ricondivido lo schermo anzi no prima chiedo a franco di inquadrarmi per un attimo il menu del ben chiù dia un attimo ok riesci a inquadrarmi dovrebbe essere sulla destra menu eccolo qui se lo vuoi inquadrare faccio vedere adesso di zoom ok controlla mia messa a fuoco basta che clicchi qui ok va benissimo così perfetto allora torno un attimo al menu immagine principale dove c'è dove sono le voci quelle principali per la calibrazione d'immagine la prima più importante picture mode dove ci permette di selezionare quattro impostazioni predefinite e adesso vi farò vedere con le misure che abbiamo già fatto quella più interessante è quella da cui vi consiglio di partire per la calibrazione e se quella cinema rex 709 c'è anche un'altra impostazione importante che a cui si accede in avanzate oltre alla potenza della lampada in questo caso la lampada ea modalità ad alta potenza quella normale non in eco c'è anche il brillian color di cui ho parlato nelle scorse puntate e vi farò vedere il brillian color ovviamente gestisce l'utilizzo degli spicchi di colore complementare adesso diciamo che la camera magari non lascia apprezzare ma guardate sullo sfondo come se diminuisco il brillian color diminuisce la luminosità generale dell'immagine ma cambiano anche i colori purtroppo adesso vi farò vedere nelle due condizioni con il brillian color a 10 e con 10 perché l'impostazione più interessante quindi su di me e riattivo la condivisione dello schermo ok arrivo condivisione schermo e vi faccio vedere questo è il software hcfr e vi faccio vedere molto rapidamente giusto un paio di misure allora la prima è la modalità predefinita la prima che abbiamo visto è quella bright e in questa schermata di hcfr vedete sulla sul valore cento per cento vedete che il il valore adesso non so se eh il data rate del webinar vi permette di vedere perché ho circa centosessanta candele su metro quadrato che sono tantissime però purtroppo in questo altro grafico vediamo il bilanciamento del bianco su nelle varie nei vari gradini della scala di rigi quindi da dieci per cento a sinistra fino al cento per cento sulla destra vediamo che il verde è troppo eh preponderante rispetto alle altre due componenti cromatiche rosso e blu eh l'ideale sarebbe ovviamente una retta con tutte e tre le eh componenti sullo stesso livello eh vi faccio vedere invece un a questo ovviamente si riflette anche nel nel colore eh questo è il gamut delle impostazioni bright vediamo invece un'altra modalità predefinita che è quella soggiorno che è sicuramente più equilibrata abbiamo al cento per cento la luminanza che scende a cento circa centosedici candele su metro quadrato il bilanciamento del bianco eh però ha un eccesso di blu di oltre il venti per cento che però lineare per tutta la scala di grigi eh vediamo invece l'altra impostazione predefinita che è quella che preferisco che quella cinema sette zero nove dove abbiamo cento cinque candele su metro quadrato al cento per cento e abbiamo un bilanciamento del bianco che eh diciamo c'è un leggero eccesso di blu un po' di più sulle basse luci fino al trenta per cento in più al dieci per cento di intensità della scala di grigi però insomma man mano scende e abbiamo un gamut che è molto vicino al resto di zero nove per quanto riguarda il vertice verde eh il rosso è molto profondo il blu leggermente meno ma diciamo non abbiamo gli errori di fase che invece abbiamo visto in altri prodotti. Adesso vi faccio vedere invece l'altra modalità predefinita che è quella DCIP3 perché vi ricordo che questo proiettore ha un filtro colore che toglie diciamo il giallo dal rosso e dal e dal verde principalmente quindi permette di avere un triangolo di gamut vedete eh molto grande gigantesco molto vicino a DCIP3 però c'è un problema purtroppo eh la luminanza scende dalle centocinque candele che abbiamo visto ad appena quarantacinque candele quindi se ne va più della metà del flusso luminoso e quindi diciamo che in questo caso eh le dimensioni dello schermo che è possibile realizzare bene sono veramente minime quindi eh non si potrebbe andare neanche oltre gli ottanta pollici per mantenere un livello di luminanza sufficiente specialmente per riprodurre contenuti HDR. Eh in queste condizioni comunque DCI abbiamo bilanciamento del bianco molto simile a quello eh cinema. Vi faccio vedere invece un'altra cosa l'ultimo eh predefinito vi faccio vedere le prestazioni con sempre la modalità cinema predefinita 709 ma con il brillian color a 5 su 10 quindi a metà. Guardate cosa succede al cento per cento abbiamo circa 80 candele quindi da 105 siamo scesi 80 candele guardiamo il bianciamento del bianco che è peggiorato ulteriormente quindi attenzione al brillian color perché come succede con tutti i proiettori modificandone le impostazioni vengono modificate pesantemente sia le prestazioni sul bilanciamento del bianco e anche sui colori eh quindi diciamo che per chi ha uno strumento ma anche ad occhio eh fate attenzione al brillian color perché è vero che con il brillian color troppo alto c'è un leggero sbilanciamento leggero c'è uno sbilanciamento di luminanza tra i colori e eh il il bianco e la scala di grigi vi faccio vedere molto rapidamente sempre su hcfr la pagina sui primari e secondari vedete con il brillian color a 5 quindi a metà abbiamo un bianco di 80 candele per esempio dovremmo avere un rosso di oltre 16 candele invece il rosso è a 12 candele quindi è circa il 25 per cento in meno e tutti i colori sono tra i 10 e il 30 per cento in meno rispetto ai valori di luminanza che dovrebbero essere eh utilizzati invece queste sono le impostazioni sempre cinema 7009 ma col brillian color al massimo abbiamo 105 candele però vedete la luminanza dei colori scende ulteriormente il rosso era il 26 per cento in meno qui stiamo quasi al 45 per cento in meno rispetto a riferimento d'altra parte attenzione a questa a questa notizia i nostri occhi hanno comunque un gamma vi ricordo per avere una sensazione di raddoppio di luminosità di se noi abbiamo due televisori una destra e una a sinistra e uno il doppio più luminoso di quello a destra ebbene quello meno luminoso diciamo che misura 100 candele su metro quadrato l'altro ne misura 500 cioè ci vogliono quasi cinque volte la luminanza per avere una sensazione di raddoppio di luminosità quindi il 50 per cento in meno non significa che questo è la metà luminoso ai nostri occhi ma molto meno circa un 15 20 per cento in me è un po quello che succede con gli oled vi ricordo che anche gli oled che hanno su pixel rosso verde blu e bianco hanno questo sbilanciamento tra la luminanza della scala di grigia e del bianco e dei colori soprattutto quelli a saturazione più elevata questo non succede con i colori a saturazione intermedia veniamo invece alla calibrazione allora chiedo di nuovo a franco di riprendere il controllo della telecamera e adesso vi faccio vedere mi apri un po' l'inquadratura franco vi faccio vedere un attimo come ci siamo organizzati grazie al dg fast al dg fast io ho praticamente sto utilizzando anche in questo caso hcfr e vi faccio vedere spegno un attimo le luci vi faccio vedere molto rapidamente in questo caso utilizziamo come generatore ma di vrtpg ho inserito vediamo vediamo subito sì adesso dovreste vedere ok scarma intero perfetto allora dicevo che metto le impostazioni predefinite cinema rex 709 vado a verificare che tutto sia di default perché io qui avevo ovviamente un po' paciugato per verificare e così posso fare al volo almeno la calibrazione del bianco davanti a ora queste sono le diciamo le impostazioni predefinite ok e vediamo ho impostato vi faccio vedere hcfr come in questo caso come target il lo spazio colore hd tv rex 309 il gamma 1886 ho impostato anche il questo caso 10 step della scala di rigi quindi a passi 10 per cento molto rapidamente facciamo una misura molto rapida sulla scala di grigi e sul sui colori primari e secondari ho spento tutte le luci all'interno della sala abbiamo la misura in questo caso viene caricato ma di vrtpg questa la generazione dei segnali test potete farla in tanti altri modi ci sono i generatori di segnali video ci sono i dischi test cioè blu ray o anche dvd ci sono i file da scaricare sia gratuiti sia a pagamento bene posso consigliare per esempio quelli di masciola che sono addirittura disponibili anche in dolby vision oltre che in hlg quindi molto interessanti e in questo caso quindi abbiamo visto la scala di rigi a passi di 10 per cento e poi rosso verde blu giallo ciano magenta e il bianco e vediamo il risultato franco magari vediamo se riesci allora questa è la scala di grigi quindi sono le tre componenti cromatiche e abbiamo visto di confermo che c'è troppo blu in questo caso mentre le altre due componenti sono abbastanza regolari poi c'è il rosso che scende un pochino rivediamo anche il gamut vedete è abbastanza regolare con rosso leggermente più saturo leggermente decisamente più stato rispetto al riferimento e il blu che all'interno dello spazio colore sicuramente ma è con fase diciamo interessante qui laser in realtà avrebbe fatto lavorare nativamente sarebbe più o meno in questo punto dove il puntatore del mouse vediamo se puoi fare uno zoom franco sul sul puntatore del mouse ovvero un blu dato dal laser che ha uno spettro molto stretto quindi un blu molto saturo ma purtroppo con un diciamo una fase non corretta quindi non è proprio un blu ma è un blu che tende un po al violetto in questo caso ben chiù ha scelto un blu nativo decisamente con la fase corretta seppur con qualche punto di saturazione in meno torniamo invece adesso al bilanciamento del bianco allora cosa c'è da fare in questo caso vi faccio vedere molto rapidamente si tratta di generare dei segnali test per correggere questa situazione ovvero la scala di rigi che ha troppo blu diciamo un po più di blu sulle basse luci e sulle alte luci e bisogna prima di tutto cercare adesso franco se riesce a beccare anche il menu in basso a destra ebbene abbiamo il bilanciamento del bianco in questo caso nelle modalità avanzate temperatura colore temperatura colore in cui possiamo scegliere quattro temperature colore predefinite che sono caldo medio freddo e temperatura nativa della lampada c'è scritto ancora lampada ovviamente del sistema di illuminamento non c'è nessuna lampada ma un sistema laser fosfori che c'è troppo verde quindi vi pregherei di non utilizzare in questo caso abbiamo scelto la temperatura colore più calda e abbiamo possibilità di modificare l'equilibrio delle tre componenti sulle alte luci ovvero guadagno gain separato rosso verde blu e anche basse luci ovvero offset sempre rosso verde blu come si parte si parte sicuramente sulle alte luci qui per comodità e per avere tutto in una schermata apro il mio paint o ovviamente lo strumento di misura che guarda dal lato giusto ovvero verso sempre in posizione centrale maggiormente più a sinistra devo fare un'altra operazione dentro hcfr ovvero devo dire ad hc devo scegliere il generatore esterno ok simulando quindi un generatore esterno lettore di vd e torno nel menu principale in questo caso in modo da vedere gli istogrammi delle tre componenti cromatiche del suo verde blu mentre l'istogramma giallo e il delta e che deve essere più basso possibile vi ricordo che delta e di 2 è veramente molto difficile da capire che siamo non siamo più a riferimento ebbene in questo caso posso andare sulla scala di grigi selezionare il livello che vado a riprodurre per correggere il bilanciamento il bianco qui il consiglio di utilizzare il 90 per cento cioè tra l'ottanta e il 90 per cento sulle alte luci e tra il 20 e il 30 per cento sulle basse luci in quest'ordine prima alte luci e poi basse luci quindi io andrò a evidenziare il 90 per cento in questo caso su paint ho scelto ovviamente un livello al 90 per cento e ho riempito in questo caso la pagina e vado letteralmente in play con hcfr in questo caso che sto leggendo in tempo reale il bilanciamento del bianco l'intenziale luminosa di questa schermata a questo punto prendo il mio telecomando che vedete basso a destra nel menu l'istogramma cosa mi dice che ho troppo blu il 108 per cento di blu il 94 per cento di rosso il 100 per di verde quindi vado sul blu sul guadagno di blu e scendo scendo fino a quando fino a quando diciamo non arrivo più o meno al cento per cento come in questo caso vedete il delta e l'istogramma giallo è sceso addirittura 1.2 potrei anche accontentarmi ma a noi piace la perfezione quindi scendo ancora un po il verde in modo da raggiungere il rosso e adesso il rosso è a al 100,1 il verde al 99.4 e il blu al 105 tolgo ancora un po di blu adesso vedete sono quasi tutti al cento per cento le tre componenti cromatiche il delta e addirittura 0,3 vedete in basso a destra il menu io il cento cento per cento di rosso il 97 per cento di verde e 94 per cento di blu ovviamente sulle alte luci il consiglio è di togliere le componenti in più e di non aggiungere mai nulla per evitare il clipping sulle alte luci adesso però non è finito siamo solo a metà dell'opera anzi a un terzo perché devo scegliere il pattern per le basse luci quindi diciamo circa il 20 per cento della scala di grigi è questo mi sposto nel menu sulle basse luci vedete ho il blu ancora più alto quindi vado offset blu e tolgo qui però devo stare attento perché se tolgo troppo rischio di affogare particolari sulle basse luci è come se togliessi luminosità in questo caso cosa che vedremo anche quella tra poco quindi in questo caso tolgo da una parte ma aggiungo dall'altra questo è il consiglio il trucco per una calibrazione diciamo più equilibrata possibile e devo anche accontentarmi dei compromessi ovvero spesso raggiungere la perfezione assoluta vuol dire anche creare maggiori problemi in questo caso per esempio affogare particolari sulle basse luci per esempio o creare solarizzazioni qui uno delta e al di sotto di uno anche se il blu al 2 per cento in più mi accontento sicuramente però non è finita perché il controllo di luminosità agisce anche in maniera proporzionale anche sulle alte luci quindi io torno a visualizzare il pattern al 90 per cento e devo controllare che non sia successo nulla di grave perché vedete io avevamo il 100 100 100 adesso sulle alte luci o 100 di rosso 100 di verde ma il blu è sceso al 98 quindi posso ridare un po di blu vedete siamo di nuovo 100 100 100 il delta è bassissimo e la luminanza in questo caso siamo 90 per cento mettiamo il bianco al cento per cento e andiamo a verificare quale la luminanza siamo a cento candele spaccate quindi al netto della calibrazione nonostante lo schermo ha un guadagno addirittura di 0 57 quello che abbiamo misurato a meno di 0 6 il abbiamo comunque 100 candele su metro quadrato che è una luminanza perfetta per vedere i contenuti in hdr faccio vedere anche un'altra cosa che mi è stata chiesta sempre nel menu torno un attimo sempre nelle impostazioni modalità luce metto la luce in modalità risparmio si si mi dice webcam chiusa dall'organizzatore mi dice webcam chiusa da mi dio prova a riaprirla perché strano vediamo ok allora dicevo sempre in tempo reale metto la lampada in risparmio e vediamo cosa succede succedono due cose come potete vedere il flusso luminoso scende quasi a metà vedete da 100 candele sono sceso a 55 candele ma si è modificato pesantemente anche il bilanciamento del bianco quindi il bilanciamento del bianco può essere deve essere ricalibrato quindi vado in questo caso temperatura colore di nuovo ovviamente non metto il bianco al cento per cento ma metterò un bianco al 90 per cento e posso sulle alte luci far crescere il blu in questo caso dovrò togliere rosso e verde ok ci siamo quasi ok ci siamo il delta è bassissimo torno su bianco ebbene in questo caso abbiamo circa 52 51 52 candele su metro quadrato quindi ripeto con la lampa il sistema di illuminamento in eco il flusso luminoso al netto della calibrazione quindi dopo la calibrazione praticamente viene dimezzato torniamo nella modalità ad alta potenza questo perché è importante perché diciamo nelle condizioni con un'installazione al buio è quella che consigliamo sempre è possibile magari prevedere un banco di memoria con la lampada in modalità risparmio energetico in modo da riprodurre contenuti in hd in rex 709 dove 50 candele su metro quadrato sono più che sufficienti un attimo che torno e rimetto a posto il bilanciamento del bianco che molto semplicemente tolgo di nuovo il gain del blu vedete in maniera veramente rapidissima riesco a riportare il proiettore nelle condizioni migliori adesso dopo il bilanciamento del bianco verifichiamo di nuovo che cosa ho combinato quindi automatico rifaccio una scala di grigi in questo caso quindi con sempre ma di vr che genera i dieci step della scala di grigi potrei anche levarlo il menu ormai è fatta in pochi secondi ok 90 100 per cento è questo risultato vedete che le tre componenti hanno adesso errori dell'ordine del 5 6 per cento e il delta e che questa figura questa curva in basso vedete abbastanza basso c'è solo tra il 70 80 per cento andiamo a circa 4 per dire con un po più di tempo a disposizione è possibile correggere in maniera sicuramente più efficace attenzione ad altre due informazioni quindi abbiamo visto molto rapidamente la calibrazione del bianco ci sono che la parte diciamo principale più importante della della calibrazione le altre fasi di cui abbiamo già parlato altre volte riguardano un primo step prima ancora di fare il bilanciamento il bianco che riguarda la calibrazione di luminosità e contrasto fortunatamente i quindi le impostazioni delle definite del bianco sia di luminosità perché di contrasto sono praticamente perfette per quanto riguarda invece le impostazioni del gamma anche qui in caso di contenuti reg 709 le impostazioni sono più che soddisfacenti considerando anche che il rapporto di contrasto della macchina di circa 901 850 901 per quanto riguarda invece l'hdr diciamo che il workflow l'approccio è praticamente lo stesso ma in questo caso il consiglio che posso dare visto anche il il rapporto di contrasto abbastanza contenuto della macchina il consiglio che posso dare a tutti è quello di utilizzare il proiettore comunque in reg 709 ovvero non solo con lo spazio ma proprio con l'impostazione predividi a reg 0 9 e con la calibrazione in reg 709 e far fare il tone mapping alla sorgente sia al lettore blu ray o al set of box o magari che ha la possibilità a un htpc come in questo caso il digifast con con ma dvr per esempio e non solo dopo aver fatto la calibrazione manuale come ho fatto io in questo caso non solo limitata al bilanciamento del bianco ovviamente ma anche ai colori è possibile fare applicare una luth ovvero dopo che abbiamo calibrato al meglio delle nostre possibilità il proiettore come in questo caso che io tra il 70 e l'80% ho il delta è un po' troppo elevato di circa 4 e magari non ho voglia di perdere tempo a cercare magari il miglior compromesso tra alte luci e basse luci perché comunque sono due punti di calibrazione posso far misurare di nuovo la macchina dal pc e in questo caso applicare le correzioni direttamente all'interno della luth in questo caso con ma dvr quindi io posso correggere le imprecisioni che ci sono ancora non solo per quanto riguarda il bilanciamento del bianco ma ancora più importante per quanto riguarda i colori in modo da avere l'immagine più vicina possibile al riferimento in questo caso non bisogna esagerare ovvero non è che il proiettore blu e verde come nelle impostazioni prefinite spingete un bottone e con la 3D LUT risolvete tutto assolutamente no perché se il proiettore non è abbastanza diciamo precalibrato abbastanza vicino al riferimento già di partenza applicare una 3D LUT rischia di provocare degli effetti collaterali devastanti come solarizzazioni o altro peggio tornando invece a bomba vedo che già sono le 6 purtroppo e vi anticipo che nell'articolo di approfondimento che faremo sul V6000 la settimana prossima quindi oltre al primo articolo che abbiamo fatto già il mese scorso faremo un primo approfondimento sulla macchina perché noi abbiamo ancora un golden sample ovvero una macchina non di produzione definitiva quindi in attesa di ricevere una macchina definitiva faremo comunque un approfondimento sulle prestazioni e sulla calibrazione con particolare attenzione alla misura dei colori perché la componente blu vi ricordo di questo V6000 è il laser blu mentre le componenti rossa e verde sono è un mix di fosfori e rosso e verde sono una rotacolore come abbiamo visto ieri e il sabato scorso e quindi diciamo il fatto che ci sia il blu come componente che ha uno spettro colore molto stretto può mettere in crisi più di un sistema di misura quindi vedremo vedremo nell'articolo anche qualche consiglio su come l'approccio migliore proprio nella misura e nella calibrazione del V6000 del V650 dove in questo caso veramente non c'è tempo e spazio per affrontare per quanto mi riguarda diciamo che potremmo anche esserci io immagino che le domande sulla calibrazione ci saranno in questo caso mi metto a disposizione di Luca anche perché avremmo un paio di domande prima di tutto noi da fare a voi vediamo come fare Luca mi senti? sì adesso mi dovresti anche poter vedere sì allora attiviamo anche chiamiamo anche Luciano se ci può raggiungere per la sezione per la sessione di domande e risposta prima di iniziare con la sessione di domande e risposte dati i quattro appuntamenti che abbiamo fatto sulla laser tv B6000 B650 vorremmo prima chiedere noi qualcosa ai nostri partecipanti per capire qual è la funzione che li ha più colpiti del B6000 B650 quindi chiedo a Davide di attivare il sondaggio il secondo sondaggio della giornata e chiediamo ai nostri partecipanti qual è tra le qual è la caratteristica che ritengono più importante del B650 tra le seguenti selezionate quindi il media player integrato il keystone verticale garanzia di 3 anni on set exchange la soundbar integrata tra volo o lo sportello motorizzato per la protezione dell'ottica che abbiamo visto in alcuni video nelle precedenti puntate attendiamo un attimo le risposte tu Emilio intanto che hai avuto modo di vedere più e più prodotti che cosa ti ha colpito di più la caratteristica più importante del nostro prodotto allora sicuramente da consumatore quello che mi attira di più è la garanzia di 3 anni che sta diventando fortunatamente lo standard per i prodotti di fascia alta qualche produttore c'è già arrivato insomma per me 3 anni di garanzia su un prodotto del genere sono importanti e poi la cosa che è importante è il pannello motorizzato che protegge dalla polvere l'ottica perché è una cosa esclusiva che ha la macchina il mentre il keystone allora il media player integrato non mi interessa praticamente per niente perché diciamo che di media player ce l'ho non mi interessa neanche il keystone perché non sia mai che io utilizzi il keystone nella mia vita e anche la sampra la sampra diciamo pone una riduzione che fa ridurre la risoluzione sì perché introduce gli artefatti e riduce la risoluzione quindi tendono ad utilizzarlo ecco abbiamo i risultati e li stiamo mostrando stravince la garanzia di 3007 exchange seguita col 27% dallo sportello motorizzato per la protezione dell'ottica a proposito esclusiva perché che io sappia non mi sembra che ci siano altre macchine diciamo nella stessa fascia di prezzo poi c'è credo ci sia il sonico di 10.000 euro forse che ha lo sportello motorizzato però i prodotti su questa fascia anch'io è l'unico prodotto che ho visto il nostro con lo sportello motorizzato la garanzia di 3 anni on site permette di dire una cosa a tal proposito noi abbiamo differenti garanzie sui nostri diversi prodotti soprattutto la videoproiezione però già 3 anni fa siamo stati i primi a inserire i 3 anni di garanzia on site su tutti i monitor desktop anche della gamma essential quindi è un po' il nostro diciamo punto di forza per quanto riguarda l'assistenza nella post vendita al cliente all'utente finale direi a questo punto di chiudere il sondaggio e passare direttamente alla sezione domande e risposte prendo puoi darmi il potere di presentatore così condivido lo schermo come faccio? un attimo solo me lo prendo io bravo adesso dovrei averlo dovreste poter vedere il mio confermo il mio schermo giusto? sì ok perfetto allora andiamo alla prima domanda la prima domanda è venuta in realtà dal modulo del campo di testo libero dove i nostri partecipanti potevano inserire delle domande anticiparci le domande prima del webinar della puntata quindi esiste un video su youtube che mostri come il grande maestro Emilia Frattaroli calibra un videoproiettore? no non c'è non c'è non c'è non c'è che possiamo assumere di far vedere un po' più spesso come facciamo i test che facciamo e anche le misure le calibrazioni poi che tempi di costruzione ci sono ovviamente del V6000 V650 allora qua rispondo io le prime unità di V6000 V650 sono arrivate in Italia questa settimana e sono disponibili ad alcuni nostri partner German Grecia Audio Quality Sound Image Hi-Fi di Prinzio le prossime unità ovviamente saranno in arrivo altre unità dalla settimana prossima quindi vi invitiamo ad andare presso i nostri partner per identificare con loro innanzitutto mostrarvi la soluzione e seconda cosa definire quello che sono i tempi di consegna poi che spazi sono necessari intorno al proiettore inserito in un mobile a ripiani mi interessava conoscere gli spazi necessari intorno al proiettore sopra e sotto e di lato per la reazione in questo caso vai pure tu vuoi rispondere sì noi consigliamo allora in questo caso il proiettore ha la reazione in e out in mi sembra da sinistra e out da destra se non mi ricordo male generalmente noi consigliamo sempre sui nostri proiettori un 20-30 cm di spazio di reazione minimo sì perché altrimenti il proiettore si surriscalda sì per quanto riguarda diciamo la custom installation ovvero per chi ha l'idea o l'intenzione di nascondere tra virgolette il proiettore all'interno di un mobile per esempio cosa interessante anche perché c'è l'offset di circa 25 cm tra la superficie la parte più alta del proiettore e l'inizio della base dell'immagine invece l'offset parlo del 100 pollici lo schermo 100 pollici invece l'offset considerando la base del proiettore è di circa 40 cm è bene quindi è possibile mettere il proiettore dentro un mobile in quel caso sì 20 cm d'accordo ma in quel caso magari sarebbe consigliabile prevedere un sistema di reazione all'interno del mobile per esempio con delle ventole a bassissimo grandi a basso numero di giri che sono silenziosissime è possibile creare proprio un percorso per l'aria in quel caso può anche essere più piccolo spazio tra il lato del proiettore e il mobile in questo caso magari non so se Luciano riesce a a parlarci Luciano sì ti sento ok perfetto sono tornato per me nelle tue installazioni hai avuto hai avuto modo di avere delle richieste per particolari customizzazioni durante le tue installazioni oppure no cosa che ci puoi dire su questo fronte sì ovviamente le esigenze variano da cliente a cliente e la customizzazione è molto importante perché le richieste sono sempre particolari i miei colleghi che si occupano delle installazioni cercano di andare sempre incontro a quelle che sono le esigenze del cliente ovviamente con un discorso di progettazione e con i limiti di quello che si può ovviamente fare le richieste sono sempre particolari e diverse per cui di volta in volta si deve capire quelle che sono le esigenze e si procede di conseguenza ci hanno chiesto di diverse cose un po' di tutto perché purtroppo poi ho visto anche nel vostro sito c'è anche una sezione dedicata allo yachting sì esatto esatto per cui lì si lavora anche in maniera ancora più tra virgolette compressa e le esigenze sono ancora più particolari Emilio intanto lo sei sparito dalla camera però ci sono ok passiamo alla prossima domanda come ci iscriviamo al webinar del 12 dicembre il 5 dicembre nulla ci lasciate soli allora il 5 dicembre purtroppo vi lasciamo soli per iscrivervi al webinar del 12 dicembre riceverete una newsletter a parte nella prossima settimana stiamo ultimando appunto la comunicazione riceverete le istruzioni prossima settimana è previsto successore del BenQ X12000H anche qua rispondo io in questo momento non è previsto in questo momento quella linea rimane la linea Cinepro rimane attiva col V5007 rimanete comunque sintonizzati perché ancora non abbiamo informazioni se vi saranno ulteriori sviluppi di quella gamma di prodotto poi è possibile avere un link da dove scaricare i file di test per le calibrazioni 7.0 7.0 in Rex 0.9 in 20-20 allora sul forum di AV Magazine se mi ridai un attimo faccio vedere ti ridò la condivisione aspetta dammi un attimo e così fai vedere direttamente il sito vai pure dovresti poter condividere lo schermo ora dovresti vederlo praticamente in fondo al forum buonanotte in fondo al forum prima del mercatino vede c'è una sezione special interest ebbene in fondo c'è calibrazione proiettore display è il penultimo forum prima del mercatino ebbene entrando dentro ci sono in rilievo link a dischi e segnali test in sd in hd e trovate diciamo da scaricare diciamo freeware per quanto riguarda sia in rec 709 che in hdr10 in hlg a pagamento circa 25 dollari per set e tutti e tre c'è comunque un forte sconto e aggiungeremo nei prossimi giorni ci sono anche dei segnali test freeware per quanto riguarda l'hdr10 e non è escluso che prima o poi anche noi metteremo in condivisione i nostri segnali che sono un po' particolari perché sono in apl utilissimi per esempio per gli schermi oleg ok vuoi ridarmi la 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 condivisione guarda se mi spino si fa volentieri no aspetta me la prendo io allora ok ok dovreste poter rivedere il mio schermo giusto? si confermo eravamo arrivati qua la calibrazione va fatta solo al 90% a tutti i livelli cercando comunque di portare il grafico al 100% allora quando abbiamo parliamo di calibrazione al centro del bianco quando abbiamo solo due punti di calibrazione ovvero alte luci e basse luci prima di tutto non utilizzare mai il 100% perché non sappiamo se siamo in clipping ovvero se siamo andati fuori scala con uno dei controlli perciò si usa il 90% o addirittura l'80 5 l'80 lo stesso sulle basse luci non usi il nero esattamente come non usi il nero per le basse luci non bisogna utilizzare il bianco quindi si fa alte luci e basse luci dopodiché ovviamente vanno controllati anche gli altri livelli controllarli ad uno ad uno è praticamente impossibile se si hanno solo due punti di calibrazione perché l'obiettivo è trovare il miglior compromesso perché ripeto abbiamo solo due punti di calibrazione in realtà è possibile fare qualcosa in più anche con soli due punti perché ci si aiuta con i controlli di luminosità e contrasto per esempio o nel caso dei proiettori come il BenQ ma anche altri si possono fare dei test per esempio con il brilliant color per esempio diminuendo un punto aumentando un punto del brilliant color cambiano le impostazioni magari si trova un'impostazione che è più lineare ed è più interessante alcuni cambiamenti ci sono anche modificando il segnale video di un ingresso per esempio non da component a RGB in qualche raro caso succede ma non più ma per esempio entrando con i segnali a gamma dinamica limitata quindi in component 16235 che è lo standard invece entrando a 0255 quindi in RGB anche in component potrebbe cambiare qualcosa ovvero i punti di intervento alte luci e basse luci potrebbe essere diversi in linea di massima quando un proiettore è ben quando il firmware è ben programmato bastano i due punti di calibrazione alte luci e basse luci diverso invece per i colori lì è un po' più complicato il CMS ma insomma sarebbero necessari forse 10 puntate di webinar di 5 ore ciascuna per entrare in profondità sul CMS ok andiamo alla prossima perché i produttori dei proiettori non inseriscono nelle macchine un calibratore come fa ad esempio Aizen e i propri monitor per fotografia professionale per allora perché è molto più difficile allora Aizen ha dei monitor addirittura il calibratore nella cornice quindi è già diciamo addirittura precalibrato e c'è poca variabilità tra un prodotto e l'altro quindi Aizen nella fattispecie nel suo software ha già le matrici di correzione per il colorimetro in modo che lega i colori nella maniera giusta per i produttori questo è molto più complicato perché c'è una variabilità abbastanza grande tra un produttore e l'altro per il sistema di illuminamento per la miscela di fosfoli e il firmware eccetera quindi da un certo punto di vista è veramente molto difficile dare un prodotto in bundle che vada benissimo e poi non è che come il monitor c'è un peso lo metti davanti al display e vai per quanto riguarda la videopressione ci sono delle considerazioni da fare ci vuole un po' più di know-how e esperienza e quindi probabilmente anche per questo motivo non viene dato poi non è basta il cavalletto e la prolunga e il software per il monitor è più semplice perché il monitor lo collega un computer sicuramente sta utilizzando un computer il programma di calibrazione viene dato in bundle invece per il proiettore no è tutto molto più eterogenea diciamo in falso che noi noi sul V5007 forniamo anche una calibrazione di fabbrica sì quella è diversa perché è una calibrazione di fabbrica che ovviamente va bene per un certo numero di ore di vita della lampada in quel caso comunque andrebbe rifatto però ripeto i monitor hanno una vita molto più lunga sono molto più stabili i proiettori a lampada decisamente meno però ripeto è più complessa anche la misura già solo il posizionamento dello strumento ha qualche elemento in più di leggera difficoltà rispetto alla calibrazione di monitor ma ripeto è anche tutto il workflow che c'è dietro ripeto il monitor lo attacchi per forza a un computer quindi diventa tutto più semplice creare una loot ci sono dei programmi spingi un bottone misuri crei la loot via invece per il proiettore non è che tutti hanno un computer collegato e puoi creare una loot e poi ripeto se non viene prima precalibrato il prodotto è un problema certo andiamo alla prossima tralasciando le differenze di installazione come si colloca a confronto con il V5007 come qualità di immagine risoluzione e contrasto allora questa è una domanda che mi hanno fatto tante persone anche privatamente email messaggi privati whatsapp eccetera allora per quanto riguarda il rapporto di contrasto sono molto simili davvero molto simili perché vabbè ci sono le misure potete andare a rivedere le informazioni e il proiettore i due proiettori sono tra il 901 penso di rapporto di contrasto entrambi per quanto riguarda invece la risoluzione ha un leggero vantaggio il V5007 ed è anche diciamo un prodotto con un'ottica sicuramente più versatile c'è lo zoom ha una costruzione più semplice qui diciamo l'ottica a tiro cortissimo nonostante l'uniformità di messa a fuoco diciamo che negli angoli quelli più distanti ha qualche punto in meno come risoluzione rispetto al V5007 e per quanto riguarda i colori diciamo che il V5007 e il il 6000 in Rec.709 diciamo che c'è sono molto vicini forse un leggero vantaggio per il V5007 soprattutto per quanto riguarda il vertice blu del gamut per quanto riguarda il diciamo il funzionamento in HDR lì il vantaggio del V5007 è leggermente superiore perché anche senza filtro DCI il gamut è leggermente superiore e per quanto riguarda il DCI il vantaggio aumenta perché il DCI è sovrapponibile a quello del 6000 ma lì non c'è quella perdita così drammatica di emosità come abbiamo visto invece nel 6000 quindi d'altra parte diciamo parliamo di due macchine con concezioni completamente diverse il il 6000 cioè il prodotto che abbiamo visto oggi in unione allo schermo UST permette invece un rapporto di contrasto in un ambiente living con pareti bianche anche con luce accesa irraggiungibili dal 50007 questa è la la differenza sostanziale quindi in concludendo al buio sì leggero vantaggio del 50007 però poi in condizioni normali di funzionamento il 6000 è praticamente irraggiungibile con lo schermo ALR specifico per proiettori UST concordo pieno sì cioè guarda lì c'è lo schermo che sta dietro Luciano con la luce accesa cioè si vede che la parete di fondo è ben illuminata ma c'è un rapporto di contrasto spettacolare guardatevi guardate guardate lì c'è come potete vedere lì c'è un LED e adesso vi faccio vedere anche una cosa se mi attendete un secondo un attimo solo illumino ancora di più così vi faccio vedere cosa accade nonostante ciò come potete vedere l'immagine adesso abbiamo una luce importantissima in questo momento ci vorrebbero quasi gli occhiali da sole mi dico la verità nonostante ciò l'immagine si vede veramente ancora molto bene questo è un grande vantaggio concordo appieno con Emilio chi vuole a mio avviso un proiettore che con grandi dimensioni che sia quasi equivalente a un tv questo è perfetto chi vuole invece più un discorso di ricreazione cinema quindi luci al minimo dell'ambiente eccetera eccetera l'altro più un proiettore 5.7 più un proiettore tradizionale quindi secondo me ecco dipende poi come diceva Emilio prima da quello che ci si vuole fare rispengo le luci altrimenti mi affronzo vai noi andiamo avanti intanto quanto durano i fosfori? ogni quanto va rifata la calibrazione con il loro invecchiamento perché non è stato scelto il trilaser senza fosfori? allora quanto durano i fosfori? i fosfori durano diciamo dopo 20.000 ore la massima potenza dovrebbe rimanere comunque ancora il 50% del flusso luminoso questo è quello che dichiarano le aziende che sicuramente è un dato conservativo nella mia esperienza anche se non ha avuto modo cioè non è che mi hanno dato un prodotto che ho lasciato acceso per 20.000 ore e ho potuto verificare ma neanche per 5.000 ore di solito i prodotti ci vengono lasciati per pochi giorni e quindi al massimo possiamo tirare avanti per qualche centinaio di ore da questo punto di vista ho notato una stabilità molto elevata per quanto riguarda il V6.000 quindi dopo 100 ore una lampada tu devi ricalibrare invece il V6.000 assolutamente no c'è anche un altro vantaggio rispetto ad altri prodotti con altre tecnologie non è solo il sistema di illuminamento che invecchia ma sono anche i micro display in questo caso il DLP assolutamente non può invecchiare mai mentre invece le altre tecnologie con testali liquidi che siano riflettenti o che siano trasmissivi nel tempo è possibile che si modifichi la linearità il rapporto di contrasto eccetera eccetera perché dice non affanno fatto il trilaser perché il trilaser e spero di poterne parlare prima possibile con test di una macchina il trilaser non è così semplice cioè il trilaser c'è il rovescio della medaglia ci sono tanti il rovescio della medaglia uno è lo speckling ovvero le macchioline che sono un difetto della luce laser che è coerente dà un po' una sorta di sbrilluzzi io non è uniforme e dà abbastanza fastidio sul blu questa roba non si nota tanto perché non è che siamo tanto sensibili al blu sul rosso già un po' di più ma sul verde tantissimo e diciamo tutti i prodotti trilaser che ho visto avevano questo difetto secondo problema il gamut il gamut è gigantesco così gigantesco che provoca due problemi uno è il metamerismo vuol dire che due persone non è che vedono non è detto che due persone vedano i colori nello stesso modo secondo problema gli strumenti di misura vanno in crisi anche gli spettrometri servirebbero spettrometri di alta risoluzione due nanometri che noi abbiamo ovviamente ma che non hanno tutti e comunque aggiungo che sono anche inadeguate le cosiddette cmf le color matching functions ovvero le curve di sensibilità che sono ancora quelle del 1931 e sono inadeguate ma ripeto non è che possiamo parlare così terzo problema grave è sull'ottica ovvero le ottiche non è che sono tanto in grado di mettere a fuoco tutto lo spettro luminoso quando ci sono tre componenti con lo spettro così stretto può succedere che ci siano aberrazioni cromatiche ed è quello che ho visto quindi non è subito viva facciamo il trilaser no attenzione perché oltre che i costi ci sono vari problemi andiamo alla prossima quanto può essere un costo base di un kit hardware e software per la calibrazione di UI solo il colorimetro si parte da poco più di 100 euro per il data color spider lo spider x spider x che se volete lo faccio vedere è uno strumento entry level molto interessante non precisissimo sulle basse luci come la iwan display pro però costa meno della metà io consiglio di spendere qualcosina in più e prendere iwan display pro della xrite magari quello oiem oppure la versione nuova la versione plus che arriva fino a 2000 candele che è uno strumento veramente incredibile come rapporto di apprezzo veramente incredibile il software ci sono quelli freeware ce ne sono tanti non c'è ovviamente solo che cfr c'è anche display cal o anche altri argil e quindi l'inizio è solo lo strumento di misura i segnali test li potete scaricare potete masterizzare dischi potete mettere su una chiavetta anche lì non è che si è costretti ad acquistare per forza un generatore video quindi ripeto da 100 euro 100 o meglio 200 250 euro con leodis 3 ovvero la one display pro andiamo avanti perché penso che la prossima ah no la potenza del laser può essere modulata per migliorare il contrasto dinamico come fanno gli altri proiettori con il diaframma allora mi ovvero c'è la modalità smart eco nel ben più che fa questo in parte ma non è diciamo quello che abbiamo visto per esempio sul 5007 è una cosa leggermente diversa e quindi per il momento no non c'è non c'è una una modulazione dinamica della potenza del laser che funzioni come un diaframma del resto parlo anche insomma di esperienza recentissima non è che poi insomma il dimming del laser dei prodotti che ho visto più o meno recentemente mi abbia così convinto al 100% il diaframma invece soprattutto se quelli molto veloci come in alcuni prodotti LCD di cui non faccio il nome quello è un'altra cosa però per o il dynamic black per quanto riguarda gli LP che però non è in questo prodotto e anche li creano anche qualche problema no al momento il rapporto di contrasto nativo quello è dico bene Luca sì esatto corretto vuoi consigliare un blu ray di calibrazione in italiano allora no cioè in italiano cioè non è che stiamo parlando di un film cioè voglio dire sì ci sono dei menu per esempio su avshd anche vari altri prodotti che hanno il menu in inglese però insomma diciamo che sono elementi abbastanza semplici tipo scala di grigi grayscale 10% e quei numeri sono quelli quindi io non credo che sia tanto un problema di lingua in questo caso spero almeno spero non sia questo hcfr anche display cal credo che siano siano anche tradotti in italiano ma il disco test oltre a quello di merighi insomma quello era un dvd non credo che merighi che ho visto recentemente a bologna non so se ha il progetto di fare un disco proprio un blu ray noi non lo so poi di segnali test ce li abbiamo però non è detto che faremo un blu ray magari potremmo fare una roba da masterizzare chi lo sa come facemmo quasi ormai 20 anni fa con il dvd test ottimo calibrando un proiettore tradizionale come ci si deve comportare con l'ombra creata dallo strumento sul telo si può ignorare o occorre fare in modo che la sonda punti al di fuori dell'ombra allora no non è necessario allora in questo caso è semplicissimo ovviamente perché il proiettore sta davanti alla sonda quindi con il visemila non ci sono problemi quando il proiettore è dietro alla sonda di solito si cerca un angolo non troppo elevato fino a 5 gradi i problemi non ce ne sono se lo schermo ha guadagno unitari e si cerca un modo per cui l'ombra venga pescata il meno possibile ma non è tanto importante a meno che lo strumento non è troppo vicino allo schermo e a quel punto l'ombra dello strumento e del cavalletto è una parte importante però voglio dire se l'ombra che viene pizzicata dall'ottica di questo strumento è limitata non ha importanza quello che verrà a mancare magari è la lettura corretta del livello di luminanza magari non saranno quelle 80 candele che stiamo a legge magari saranno 85 ma non è così importante importante cioè non ha effetti sul bilanciamento del bianco sulle coordinate cromatiche e quindi sui colori ha solo effetto sul valore assoluto di luminanza che lascia il tempo che trova ovvero infatti di solito la prima cosa che si fa per puntare la sonda è si mette un bianco al 100% si mette la pausa ovviamente il segnale test si avvia la sonda in lettura continua come ho fatto io prima e si trova la posizione migliore in modo che la sonda legga il massimo valore di luminanza possibile in quel caso non abbiate paura di allontanare la sonda se la sonda ha un angolo di campo limitato come nel caso dell'Aguan Pro che c'ha circa 5 gradi non è tantissimo certo ci sono sonde come per esempio questo bagaglietto qui questo qui per esempio un Minolta LS150 che ha un grado solo di angolo di campo quindi mi consente veramente di mettermi dove voglio e di allontanarmi oppure per esempio la Klein o un CR100 hanno 1,8 2 gradi 3 gradi diciamo che non c'è problema raramente è un problema all'ombra dello strumento ok ci sono ancora altre domande che ti faccio in diretta perché non ho avuto modo di metterle dentro allora la prima è questa per la riproduzione di contenuti in 3D un attimo solo che cerco di allargarvela quanto più possibile in modo tale che potete vedere per la riproduzione di contenuti in 3D è meglio un proiettore ad ottico ultracorta o tradizionale non vorrei dover abbandonare la visione dei miei film di fantascienze in 3D non devi infatti non devi abbandonarla perché io devo dire la verità non ho provato con un proiettore UST a vedere contenuti 3D ma lo farò perché ho tutta l'attrezzatura anche i contenuti abbiamo anche i segnali test non so se vi ricordate in alcuni Blu-ray di Medusa c'erano i segnali test in 3D di AV Magazine pensate un po' però dal punto di vista tecnico non dovrebbero esserci differenze perché comunque quello che è importante è la luminanza voglio dire in questo caso con il V6000 o 100 candele su un metro quadrato sono veramente difficili da trovare in media in un'installazione un tipo in cui magari ci si ferma non serve neanche a 50 candele su un metro quadrato perché si esagera quella dimensione dello schermo perché magari il proiettore è molto lontano e con l'ottica in posizione tele rimane poca luce in questo caso no non c'è non ci sono controindicazioni ok un'altra domanda cos'è che dal punto di vista produttivo spiega perché la precalizzazione di fabbrica REC709 sia così scarsa è davvero così alta la varianza tra un esemplare e l'altro non credo allora attenzione perché tutto è un compromesso allora innanzitutto tra i prodotti UST che abbiamo provato e che pubblicheremo anche nelle prossime settimane il Benchiusemila è quello che va meglio nelle impostazioni predefinite e lo potete verificare anche se andate un po' indietro a vedere quello che abbiamo fatto perché c'è così cioè c'è alla fine parliamo di un 10% in più di blu che non è tantissimo il delta E che cos'era forse 5 quindi da un certo punto di vista le prestazioni sono buone non c'è la diciamo la certificazione e la precalibrazione come quella fatta nel 5700 che invece si avvicina molto di più al riferimento ma lì perché ogni macchina viene precalibra tentabile sì potrebbero farlo anche con il V6000 e con il V6050 e non è detto che prima o poi lo facciano un'ultima domanda come funziona il frame interpolation con il materiale cinematografico in 24p premetto che non sono un amante del frame interpolation in generale so che la realtà è fluida non è a scatti però io sono ancora legato all'incedere a scatti del 24p del cinema e quindi non so mi sembra di guardare un documentario la soppopera e vabbè quindi questa è la premessa però evidentemente la potenza di calcolo e gli algoritmi di questi ultimi proiettori sono migliorati sensibilmente quindi il frame interpolation soprattutto è anche possibile scegliere i vari gradi di frame interpolation non è affatto male e funziona abbastanza bene sempre una domanda sulla calibrazione un attimo solo me la copio questa risponde Luciano però non credo per fare una calibrazione automatica ad esempio con calma non ha senso utilizzare un raspberry pi 3 come pattern generator oppure basta una fire tv o un apple tv con i pattern gratuiti disponibili allora dipende nel forum nostro c'è una discussione e ora magari la cerco in cui c'è una persona un amico che conosco il nickname è Angermichi un pazzo polgorato peggio di me da alcuni punti di vista che ha misurato i pattern generator economici per cui credo anche il il raspberry e anche l'apple tv ed altro e ha visto che in alcuni casi ci sono degli errori più o meno interessanti quindi si ha senso utilizzare un raspberry pi 3 però per esempio a me ho visto anche recentemente la fire tv stick probabilmente in questo momento tra quelle che costano poco e costa davvero poco è quella migliore apple tv decisamente no cioè tra quelli che con gli errori l'ultima volta che è stata testata era quella con gli errori più gravi soprattutto sul livello del nero no cioè addirittura bisogna fare la calibrazione per l'apple tv l'ultima domanda buonasera a tutti hai previsto un nuovo firmware per il v5007 emilio c'è proprio necessità di nuovo firmware ma firmware allora la macchina funziona benissimo probabilmente per esempio a me piacerebbero un paio di cosine tipo un po' di modulabilità in più su alcuni voci del menu per la calibrazione come il cms per esempio e quindi sì diciamo non è indispensabile perché la macchina va decisamente bene però ecco un firmware che aggiungesse due tre cosine che avevo chiesto non sarebbe affatto male allora provvederò a passare alla nostra ricerca e sviluppo le informazioni magari possono con l'arrivo del 2021 prevedere un nuovo firmware per questa macchina io direi che abbiamo finito 6.40 quindi abbiamo sforato di circa dieci minuti direi a questo punto di salutare Luciano e di ringraziarlo per la sua presenza e per la sua partecipazione ho avuto una domanda Luciano dimmi allora ho visto dietro di te appunto un'immagine che perfettamente a squadra geometricamente hai fatto un lavoro igreggio quanto c'è messo visto che era la prima volta i colleghi che hanno fatto l'installazione anche questa mattina in maniera veramente molto veloce ok volevo chiederti vero curioso appunto di sapere quanto tempo ci avevano messo a montare lo schermo che è una domanda che spesso ci hanno fatto e quanto tempo ci hai messo a posizionare il prodotto più o meno allora ti dico lo schermo lo abbiamo montato ieri sera ho dato io una mano al collega nella prima parte poi essendo in pieno black friday sono dovuto scappare e la seconda parte addirittura lui l'ha fatta da solo poi il completamento cioè la chiusura delle cornici l'abbiamo rifatta insieme ma guarda io credo forse con calma un'oretta però non te lo so dire esattamente comunque molto meno del previsto l'installazione è abbastanza cioè abbastanza semplice ti dico la verità noi ne montiamo ne abbiamo montati tanti insomma sappiamo come come farlo eccetera però tutto sommato ti dico che volendo potrebbe essere anche semplice intuitivo lo schermo è fatto è fatto bene l'installazione invece a parete è già un po' più complessa lì non ti so dire ho visto oggi qualche passaggio ma ti dico che è un pochino più complessa di quello che che pensavo ma per quello che hai detto tu nel senso che il il proiettore non può essere poi spostato quindi devi fare molta attenzione a dove piazzare il telo ecco quella parte diciamo che va va gestita bene mentre l'assemblamento del telo è veramente per quello che mi riguarda molto molto semplice in cui dire bene molto bene un'ultima cosa ho ritrovato nel frattempo la discussione quella sui generatori economici che sta nella sezione che abbiamo visto prima quella calibrazione proiettori e display e ho fatto un'app quindi adesso è in cima è la quarta discussione quindi potete andare lì su tutte le misure così potete farmi un'idea di quali sono i pattern generator migliori Emilio prima di chiudere dobbiamo dire che ovviamente uscirà un articolo su AV Magazine a chiusura di questo ciclo di webinar in modo tale che daremo anche i link per poterli rivedere riceverete come al solito la mail con la registrazione di questa puntata vi ricordiamo alla chiusura di non chiudere perché verrete indirizzati al nostro sondaggio e potete lasciarci l'autorizzazione per andare a vedere il B6000 e lo schermo LR dato che come abbiamo fatto come i nostri partecipanti hanno detto sono aperti e accettano appuntamenti quindi vi invitiamo io vi ho riportato i contatti all'inizio del webinar potete anche andare sul loro sito e chiamarli per fissare un appuntamento io vi ringrazio la folle promozione che prevede lo schermo da 100 pollici LR in omaggio finirà a 31 12 31 12 quindi vi veramente vi invitiamo ad andare a vedere grazie Emilio e grazie Luciano per la vostra disponibilità grazie a voi buona serata a tutti ciao ciao a tutti ciao Ciao!